...este partite di fronte a due squadre di grandissima tradizione, grandissima storia e non hai la sensibilità che deve albergare in un essere umano per capire che un episodio, proprio per farla grande dire dubbio ma proprio per spezzargli una lancia a favore tu riesci a dar rigore al novantatresimo più espulsione vuol dire che al posto del cuore hai la pattumiera perché se no un essere umano non può mai prendere due decisioni così avventate dopo che ha visto...